Sono tutti gli zoologi dal museo di zoologia. Sono studiosi degli animali e mi sono sembrati persone serie. Hanno portato microscopi, animali e vari tipi di fogli. Hanno parlato di come passano i fiori e cosa mangiano e dove vivono gli animali. L'attività che abbiamo fatto insieme a loro era divertente e mi sono divertito a fare un quadro come foglio. Poi ci hanno fatto piantare semi e bulbi e io ho piantato una rosa che è diventata bellissima. Mi è piaciuta molto, annaffiarla la mia pianta di rose e ho imparato a fare nascere e a fare crescere una pianta. L'attività che mi è piaciuta di più è stata quella dei ragni e ho scoperto che hanno otto zampe e mi è piaciuto scoprire il modo in cui i ragni usano i loro sensi per sentire, per vedere, per mangiare, per tessere la tela. Mi sono ricordato che da piccolo avevo paura dei ragni mentre ora mi piacciono molto. Io ho avuto questa esperienza quando stavo a Casal del Marmo. Dopo due o tre mesi mi è capitato di incontrare di nuovo gli zoologi al civico zero. È stata una sorpresa vedere le stesse persone e sono stato contento di finire il mio lavoro.